Nigel Farage è tornato e lancia un nuovo partito per salvare la Brexit. L'ex leader dell'ormai disciolto partito euroscettico UKIP, e storico promotore dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, ha lanciato il suo nuovo Brexit Party, con il quale intende candidarsi come capolista alle elezioni europee di maggio, inevitabili anche a Londra, se entro meno di un mese, non sarà riuscita a ratificare un accordo di divorzio da Bruxelles. E' stato chiaro fin dall'inizio che il nostro Parlamento Remainer e il nostro governo Remainer faranno di tutto per ottenere una proroga per rovesciare infine la Brexit, ha detto Farage in una conferenza stampa a Coventry. Farage ha spiegato che non ci saranno differenze fra il Brexit Party e l'UKIP in termini di politica, ma in termini di personale. Riferimento al vecchio partito accusato di essersi fatto avvicinare troppo da gruppi e cruppuscoli di estrema destra prima del suo scioglimento. Farage è tenuto a sottolineare che il partito accetterà solo piccole donazioni e non contributi da miliardari come Aaron Banks, suo controverso finanziatore e fondatore della campagna per abbandonare l'UE. Il nuovo partito chiederà all'elettorato non solo di sostenere una chiara rottura dall'UE, ma anche di dare via ad una rivoluzione politica nel Regno Unito. Siamo una grande nazione e un grande popolo, ma siamo guidati da una debole leadership e è arrivato il momento di cambiare, ha detto Farage.